Fernando Pessoa, il libro dell'inquietudine di Bernardo Soares Dio mi ha creato per essere bambino. Dio mi ha creato per essere bambino e mi ha mantenuto sempre bambino. Perché mai ha permesso che la vita mi picchiasse e mi rubasse i giocattoli e mi lasciasse solo durante la ricreazione a spiegazzare con mani deboli il mio grembiule azzurro, sporco di lunghe lacrime. Se non mi era possibile vivere senza carezze, perché hanno buttato via la mia tenerezza. Ah, ogni volta che vedo per la strada un bambino che piange, un bambino esiliato dagli altri. Mi fa più male della tristezza del bambino nell'orrore del tutto impreparato, del mio cuore esausto. Mi addoloro con tutta la statura della vita sentita e sono mie le mani che stringono la cocca del grembiule. Sono mie le bocche storte dalle lacrime vere. È mia la debolezza, in mia la solitudine e le risate della vita adulta che passa e mi consumano come lucidi fiammiferi strusciati sulla sensibile stoffa del mio cuore. Grazie a tutti. Grazie a tutti.